Per testimoniare la gioia di vivere, per scoprire la bellezza e l'amore, per sognare cose grandi, per lasciarci toccare dalla misericordia, per non camminare mai da giudici. Se vuoi andare veloce corri da solo, se vuoi andare lontano corri insieme a qualcuno. Allora avete capito carissimi giovani, un appuntamento a cui non potete mancare. Ci sarò anch'io, il Vescovo, che è lì pronto ad aspettarvi, perché ha sicuramente molto da imparare dal vostro entusiasmo e dalla vostra vivacità. Le parole del Papa, il vostro entusiasmo, festa garantita. Vi aspetto tutti. Sabato 14 maggio, dalle ore 17 alle ore 21, a Ginusa. Giubileo dei giovani. Noi ci sapevo, è tu!